francesco sardo come affrontare le prime battute in spiaggia nel senso che siamo all'inizio io la prendo così per buona questa domanda le prime battute quindi io sono un pescatore novello arrivo in spiaggia e voglio pescare ti consiglierei di pescare con due soluzioni di iniziare con un mini trave quindi due soluzioni piombo scorrevole piombo fisso entrambe con un amo quindi quella con il piombo fisso ti consiglierai di pescare con un mini trave e questo te lo dico perché sempre sull'esperienza che ho al banco nei dei miei vent'anni in cui io ho svezzato non so quanti mila pescatori di surf casting e quindi quando gli mettevo la cassetta gli dice ok adesso facciamo i travi però tu stai all'inizio mi faccio proprio così adesso facciamo due travi insieme e me li mettevo là proprio io e lui davanti al banco poi da lì no che nasce il mio youtube tutte quelle cose che faccio perché le facevo tu per tu con il mio cliente quando avevo 25 anni al banco allora poi dopo ho capito in realtà potevo farle davanti a una telecamera e gli facevo costruire un long arm non c'erano i mini travi gli facevo costruire un long arm semplice con un bracciolo laterale e poi gli spiegavo la tecnica scorrevole col piombo con il sisi scorrevole con lo slider scorrevole gli davo le due varianti questo è piombo fisso bracciolo laterale questo è piombo scorrevole bracciolo in linea tutte e due puoi cambiare il piombo su tutte e due puoi cambiare lamo adesso inizia così non fasciarti la testa perché poi con due ami cominci a impicciare perdi la pazienza ti incazzi butti tutto e non peschi più quindi è giusto che tu che io ti faccia partire per gradi quindi gli insegnavo a fare due cose e poi dicevo la prossima volta che vieni facciamo quello due ami e quindi lui andava a pesca si divertiva giocava non si incazzava non buttava l'attrezzatura perché non impicciava nulla ritornava e quindi io gli facevo come se fosse il secondo step ok adesso facciamolo a due ami e gli spiegavo la differenza tra un amo due ami eccetera eccetera un passo indietro perché già siamo arrivati al secondo step tu volevi sapere il primo è quello a quale ti ho appena risposto consiglierei di approcciare con una montatura molto semplice con due tipi di montature per capire la differenza tra piombo fisso e uno scorrevole ma pescando con un amo solo e se vuoi un'idea di quello del quale di cosa sto parlando oggi consiglio il mini trave per iniziare prima non c'erano vuoi un'idea puoi iniziare come assetto pescante mini travetto classico modello tsa lo trovi sul sito fishing evolution oppure il trave classic modello scorrevole orata quei due e poi gli davo tutti gli accessori per rifarseli a casa e un assetto classico 150 grammi un murinello 6 7 mila un filo conico possibilmente diretto se non devi pescare tanto lontano perché all'inizio non sei un gran lanciatore quindi magari ti dico guarda montato 35 diretto poi dopo passiamo il filo fino ti faccio vedere il nodo dello shock leader questo è perché te lo dico così se lo so come lo sapessi a memoria perché questo è tutto ciò che sta all'interno del videocorso che sto che sto creando che tra poco sarà sarà lanciato che sono 65 video per chi pesca da zero a pescatore è proprio questo che spiego faccio vedere tutto passo 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 tutto quali sono gli step come devi iniziare come cosa devi fare quando arrivi a casa che cosa ti puoi preparare a casa che cosa ti puoi preparare in pesca eccetera eccetera comunque questo è l'inizio francesco grazie a tutti